siamo in diretta siamo in diretta quindi ciao a tutti adesso non c'è nessuno ma le persone che vedranno questa questo video registrato insomma arriverà a loro questo saluto quindi ciao ciao ragazzi benvenuti in questa prima diretta la nostra prima live della serie di live in cui vi spieghiamo come funzionano la gradutoria come cosa vogliono dire i termini assegnato prenotato in attesa fine posti e come si costruisce una lista delle preferenze tra virgolette in modo scientifico io sono mario fondatore di torment per chi non mi conoscesse aspetto che mi date i feedback sull'audio sul video se mi vedete mi sentite eccetera quindi li aspetto nei commenti nella chat prima di iniziare con questa diretta che come come saprete come da da titolo tratterà i meccanismi le regole che la graduatoria nazionale del test di medicina segue piccolo disclaimer all'inizio questa live è costruito sulla base dei meccanismi della graduatoria nazionale del test di medicina cosa vuol dire che il test di professioni sanitarie tanto so che ce lo chiederete prima o poi il test di professioni sanitarie segue una logica locale e non nazionale di conseguenza la graduatoria del test di professioni sanitarie unibo ad esempio dell'università di bologna è una graduatoria a sé stante rispetto a qualsiasi altra università quindi non è una graduatoria nazionale così come invece è la graduatoria del test di medicina ci tengo a sottolinearlo così almeno siamo siamo chiari fin dal principio bene grazie dei feedback su audio e video intanto come vi dicevo se avete delle domande su graduatoria sui meccanismi eccetera lasciateceli qui nella chat in modo che poi dopo quando ci sarà la parte diciamo di domande risposta vado a riprendere le vostre domande perché alla fine in questa live ci sarà prima una parte in cui vi spiegherò effettivamente quali regole segue una graduatoria nazionale come quella del test di medicina e poi successivamente ovviamente risponderà a qualsiasi dubbio abbiate sulla sulla graduatoria nazionale che purtroppo ogni anno come dire ogni anno dobbiamo ripetere alle persone come funziona perché chiaramente il nessuno la spiega chiaramente dall'alto il ministero assolutamente non non prendono posizione non non la spiegano chiaramente quindi siamo felici di fare noi questo questo lavoro per per voi quindi inizierei a condividere le slide che anche in questo caso ok nadia differenza segnalo pronotato la spieghiamo in realtà il tema della live di domani della live di domani alle 21 e 30 ma brevemente te la spiego con c'era quindi inizio condividendo le slide la live durerà circa un'oretta in base a quante domande farete dopo chiaramente si estenderà più o meno però tutte questa questa serie di tre live che faremo stasera domani sera e dopo domani dureranno circa un'oretta anche perché non non voglio tenervi incollati fino a tarda a tarda sera al pc o al telefono quindi condividere slide anche in questo caso ditemi se le vedete bene se continuate a sentirmi perché la tecnologia onestamente a volte fa dei capricci ok dovreste vedere tutto correttamente ma qui ho un altro dispositivo che mi dice cosa sto facendo perfetto allora vedete correttamente quindi questa è la prima è la prima di tre live che faremo sempre sul nostro canale youtube quindi se non siete già iscritti iscrivetevi così vi arriva la notifica delle altre dirette e parleremo in questa della gradatore nazionale dei meccanismi di gradatore nazionale nella prossima cioè quella di domani parleremo dei termini assegnato prenotato in attesa fine posti e in quella dopo ancora quindi di sabato sempre alle 21 e 30 sempre sul nostro canale youtube parleremo di come sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto di come costruire una lista delle preferenze perfette cioè che tenga conto effettivamente delle cose importanti quindi oggi parleremo di meccanismi della gradatore nazionale quindi se avete domande su questo tema è questa la live in cui vi risponderemo invece se avete domande su cosa metto prima o dopo allora la live di sabato è sicuramente più più indirizzata partiamo prima di partire però visto che la le iscrizioni alla scuola online chiuderanno il 20 luglio per i piani basic e plus e il 19 per la masterclass volevo spendere due parole letteralmente due parole per chi non conoscesse lo strumento per chi ancora ci stesse pensando eccetera sulla scuola online la nostra piattaforma di preparazione per i test medico sanitari che all'obiettivo di rendere la vostra estate migliore in sostanza qui c'è una lista delle cose che trovate all'interno della scuola online quindi corsi di alta qualità delle diverse materie dei test biologia chimica logica matematica e fisica che sarà molto importante quest'anno e chiaramente abbiamo preso tutti gli argomenti del bando ministeriale per ogni argomento abbiamo fatto delle lezioni un generatore di simulazione limitate non avrete più l'ansia di finirle eccetera aggiornata al test 2022 esercitazioni illimitate anche in questo caso divise per materie argomento perfino difficoltà un gruppo di supporto allo studio se avete bisogno di di aiuto durante le vostre sessioni di studio scrivete su questo gruppo e i nostri tutor sono felicissimi di rispondervi app mobile per studiare letteralmente quando e dove vorrete semplicemente con un paio di cuffie se vorrete è una smartphone è la full immersion estiva dal 20 luglio al 31 agosto che ha l'obiettivo di organizzarvi le ultime settimane di di preparazione e sappiamo quanto è difficile studiare ad agosto e ci abbiamo messo tutto per creare un calendario di lezioni in diretta ci sono oltre 40 lezioni in diretta in questi 40 giorni 20 luglio 31 agosto con tantissime attività di pratica chiaramente full immersion estiva solo disponibile con il piano masterclass stiamo per chiudere le iscrizioni come vi dicevo il 19 luglio alle 23 59 chiuderemo le iscrizioni della masterclass il 20 luglio alle 23 59 quelle di piani basic plus scegliete di accelerare il vostro studio ormai più perché appunto stiamo per chiudere le iscrizioni e le iscrizioni sono aperte al link che vedete promettest.it slash scuola trattino online bene iniziamo con la nostra diretta come funziona effettivamente la graduatoria nazionale i meccanismi di funzionamento della graduatoria nazionale del test di medicina 2022 ma in realtà 2020 2019 la graduatoria nazionale ha più o meno sempre funzionato allo stesso modo allora ho diviso questa diretta in punti quindi ci sono quelle che vedrete saranno le regole diciamo le fondamenta su cui la graduatoria nazionale scorre su cui la la graduatoria nazionale si costruisce quindi le cose che sono assolutamente vere sempre quindi numero uno prima regola diciamo che dovete tenere a mente se fate un punteggio che vi consente di entrare nella vostra prima scelta siete obbligato obbligate ad immatricolarvi esempio esempio pratico perché la il nome della live sta proprio vi deve far capire che stasera parleremo di esempi pratici nel momento in cui io metto come prima scelta medicina campo basso e come seconda scelta milano terza torino eccetera se il sistema cioè se l'algoritmo della graduatoria nazionale percepisce che quel punteggio mi consente di immatricolarmi a campo basso in base a tutti gli altri punteggi della graduatoria che hanno campo basso tra le preferenze e chiaramente in base a tantissimi altri fattori alle posizioni delle altre persone se io faccio un punteggio sufficiente per entrare a campo basso e campo basso è la mia prima scelta allora ho l'obbligo di immatricolarmi a campo basso ludovica la live durerà circa un'ora quindi durerà circa un'ora e la terremo caricata qui sul canale in caso tu la voglia rivedere quindi dicevo la vostra prima scelta vi deve far capire che se fate un punteggio idoneo sufficiente per immatricolarvi lì cioè per passare il test lì a quel punto siete obbligati ad immatricolarvi non potete non immatricolare cioè non potete sperare che si liberi un posto sotto questa sarà un'altra regola cioè la graduatoria sale solo e non scende ma dovrete immatricolarvi a campo basso ovviamente non siete davvero obbligati ad immatricolarvi perché potete anche perdere il posto cioè se campo basso qualsiasi altra università ho preso campo basso a caso non vi piace per qualsiasi motivo se ci avete ripensato eccetera se come prima scelta avete un'università e fate un punteggio idoneo ad entrare in quello di università ad essere immatricolati in quell'università non avete scelta che prendere quel posto altrimenti perdete il posto nella graduatoria cioè proprio se non vi immatricolate quando voi vedete la parolina assegnato a quel punto perdete il posto nella graduatoria e dovrete se vorrete se vorrete rifare il test l'anno dopo cosa importantissima e questo vale solo per la prima scelta o anche per seconda e terza ad esempio è molto è molto semplice rispondere a questa domanda questa regola è l'applicazione pratica forse della regola più importante della graduatoria nazionale cioè nel senso che una graduatoria nazionale non scende ma sale cosa vuol dire anzi no andiamo per ordine perché questa sarà un'altra regola giorgia te lo spiego con con calma quindi sulla prima regola spero ci siamo se avete dubbi nei commenti ditemelo e sarò più chiaro risponderò assolutamente con molto piacere edoardo dice il vero problema per la prima scelta è poi trovare un appartamento per viverci se metto milano bologna dubito si trovano ancora appartamenti allora io non ti consiglio di farti questo tipo di problemi che perché è un livello di complessità molto elevato tu presupponi una cosa che in realtà magari poi non sia vera cioè magari un appartamento a bologna lo trovi e o comunque una stanza singola una stanza doppia cioè il modo di vivere in una città con il minimo indispensabile si trova quindi vi sconsiglio di fare questo tipo di ragionamento il ragionamento non so se trovo la stanza singola a bologna a milano eccetera se decidete se avete le possibilità economiche se parlandone con i vostri cari insomma c'è la possibilità di farvi studiare lì avete fatto le vostre ricerche sulla qualità della tenera eccetera non vi fate anche il problema del non troverò niente anche perché alla fine tutti trovano cioè nel senso sono pochi i casi delle persone che rimangono effettivamente fuori prima regola quindi la prima scelta è fondamentale proprio per questo cioè è la scelta più importante non a caso prima scelta prima nella lista delle preferenze proprio perché se fate un punteggio idoneo ad entrare nella vostra prima scelta la graduatoria è come se non esistesse c'è tutte le liste tutte le preferenze sotto la prima scelta è come se non valessero più ovviamente seconda regola della graduatoria nazionale come come vi dicevo se avete delle domande fatemele nei commenti così le leggo la seconda regola della graduatoria è che la graduatoria è fatta per dare merito alle persone con i punteggi più alti indipendentemente dall'ordine cosa vuol dire esempio pratico anche in questo caso se io metto bologna come terza scelta ad esempio e marica mette bologna come seconda scelta e io faccio un punteggio più alto di marica se la graduatoria di entrambe le persone lo consente se ci fosse un solo posto lo prenderei io quindi nonostante giorgia mette bologna un gradino sopra rispetto a me quindi come seconda scelta e non come terza come me io che faccio un punteggio più alto anche di un solo decimo a quel punto quel posto aspetta me chiaramente se le graduate se le liste delle preferenze sono allineate e se c'è veramente un solo posto che mi contendo io e lei lo prendo io perché è la è proprio la persona che fa il punteggio più alto che che vince tra virgolette c'è la graduatoria in merito e meritocratica proprio per questo motivo indipendentemente dalla posizione io potrei avere bologna anche come ventesima scelta e se c'ho bologna come ventesima scelta e faccio un punteggio di 71.1 e marica fa 71 e c'è un solo posto per bologna lo prendo io lo prendo assolutamente io perché la graduatoria premia chi fa i punteggi più alti dato questo punto è importante l'ordine delle altre scelte spiegati meglio chiara rileggo la tua domanda dopo perché insomma può voler dire tante cose però spiegati meglio e rileggo la domanda dopo ci sono dubbi su questo punto della graduatoria è molto molto importante considerare anche questo questo aspetto terzo punto terza regola della graduatoria nazionale una volta assegnati potete solo immatricolarvi una volta prenotati potrete scegliere se aspettare o immatricolarvi allora questa questo punto riprende anche il primo punto di cui di cui abbiamo discusso quindi il primo punto è se faccio un punteggio sufficiente ad immatricolarmi nella mia prima scelta e quindi vengo assegnato io non ho altra scelta che immatricolarmi non posso fare altro o perdo il posto cioè posso scegliere se immatricolarmi entro quattro giorni lavorativi tra l'altro oppure perdo il posto molto semplice se perdo il posto non posso più concorrere per niente cioè esco proprio dalla graduatoria non è che perdo il posto rientro da sotto no esco dalla graduatoria nessun posto è per me quindi se faccio un punteggio sufficiente per la mia prima scelta mi spunterà assegnato a nome dell'università nome della facoltà e avrò quattro giorni lavorativi per immatricolarmi una volta che invece sarete prenotati potrete scegliere se aspettare o se immatricolarvi nell'università in cui risultate prenotati allora per capire a fondo questo punto è importante che sappiate la differenza una breve differenza tra assegnato e prenotato assegnato uguale persona che fa un punteggio sufficiente per immatricolarsi c'è persona che passa il test nella propria prima scelta molto semplice solo in quel caso si risulta assegnati se io metto come prima scelta campo basso e faccio un punteggio che mi consente di immatricolarmi a campo basso passo il test a campo basso risulterò assegnato a campo basso molto semplice e campo basso in questo caso è la mia prima scelta ma supponiamo che io sotto campo basso o l'università di catanzaro se io non faccio un punteggio che mi consente di immatricolarmi a campo basso perché l'ultimo immatricolato a campo l'ultimo in graduatori a campo basso ha un punteggio più alto del mio ma faccio un punteggio sufficiente per immatricolarmi a catanzaro perché risulto appunto tra le persone che possono immatricolarsi a catanzaro a quel punto visto che catanzaro nella mia seconda scelta nella mia seconda posizione della lista delle preferenze io vedrò prenotato a catanzaro quindi prenotato e quando voi risultate vincitori tra virgolette del test di medicina in un'università che non è la vostra prima scelta quindi nella seconda nella terza nella quarta nella quinta non fa differenza avrete sempre sullo schermo prenotato a questo a quel punto voi una volta che risultate prenotati nella vostra prima seconda nella vostra seconda terza quarta quinta scelta potete decidere se aspettare gli scorrimenti o immatricolarvi cosa vuol dire potete decidere se aspettare gli scorrimenti quindi per aspettare di salire nella vostra lista delle preferenze quindi se io sono prenotato nella mia terza scelta e voglio ambire alla mia seconda scelta posso decidere se aspettare che un posto si liberi nella seconda scelta quindi mettiamo caso anzi ritorniamo al caso di prima sono a catanzaro seconda nella mia lista delle preferenze risulto prenotato a catanzaro a quel punto posso decidere se immatricolarmi subito a catanzaro oppure aspettare gli scorrimenti per la mia prima scelta che era campo basso come posso aspettare la lo scorrimento verso la solo verso l'alto per campo basso devo semplicemente dichiarare che sono interessato agli scorrimenti della gradatoria se non dichiaro che sono interessato agli scorrimenti della gradatoria e se non mi immatricolo perdo il posto molti di voi sicuramente mi stanno chiedendo non ho ancora visto neanche le domande ma molti di voi mi stanno chiedendo ma se io aspetto e non mi immatricolo a quel punto lo perdo il posto a catanzaro lo perdo il posto nella nell'università in cui risulto prenotato assolutamente no ma l'importante che voi dichiarate l'interesse per lo scorrimento se voi non dichiarate che proprio come si fa a dichiarare interesse per lo scorrimento c'è una sezione su universitali in cui voi proprio dovete cliccare un bottone e dovete cliccarlo costantemente cioè non dovete cliccare una volta e basta ma a cadenza regolare quindi dichiarate l'interesse per lo scorrimento se aspettate se volete aspettare che si liberi un posto in un'università più in alto nella vostra lista delle preferenze più in basso è impossibile perché la gradatoria procede solo verso l'alto e non verso il basso ora mi guardo un po di domande ma sono certissimo che fate questa cosa allora se si fa un punteggio maggiore rispetto alla prima scelta si può scegliere quindi martina dice se si fa una lista delle preferenze partendo da con l'università che richiede un punteggio minore finendo con l'università che richiede un punteggio maggiore martina non ho capito il senso della tua domanda prova a riformulare e rileggo la tua domanda poi un'altra domanda perché molti mi hanno detto che a prescindere mettono tutte le scelte è molto semplice perché tu più scelte metti chiaramente ordinate con criterio più hai probabilità di risultare prenotato in una delle università facciamo due esempi molto semplice io sono mario e metto nella mia lista delle preferenze quattro università metto bologna metto milano metto padova e metto udine a caso nel momento in cui io non faccio un punteggio idoneo per una di queste università la mia graduatoria finisce c'è la mia graduatoria mi visualizzerà a fine posti proprio o in caso in attesa comunque tutti questi termini li spiegheremo domani nella live di domani quindi io ho una probabilità più bassa di ritrovarmi con un posto di medicina in giro per l'italia se metto meno facoltà cioè se metto meno università se io le metto tutte a quel punto e le ordino secondo un certo criterio a quel punto io ho maggiore probabilità perché perché io metto anche le università storicamente col punteggio minimo più basso quindi quelle meno ambite quelle tendenzialmente al sud catanzaro messina campobasso foggia e a quel punto se io non dovessi fare un punteggio che mi consente di matricolarmi nelle top università del nord italia a quel punto comunque ho la possibilità di avere una chance per le università meno meno ambite quindi più è lunga la vostra lista delle preferenze ma anche in questo caso tratteremo l'argomento nella live di sabato specificamente più le probabilità di avere un posto da qualche parte in italia ovviamente sono alte allora vediamo altre domande se io sto aspettando di vedere se sono entrato a mad in italiano e continua a confermare per mad in inglese per quanto tempo il posto pronotato il posto pronotato tu ce l'hai esattamente per quanto tempo confermi l'interesse per lo scorrimento nel momento in cui scade il termine per confermare l'interesse per lo scorrimento tu il posto lo perdi se non ti matricoli nell'università in cui risulti pronotato quindi tu il posto ce l'hai pronotato per quanto vuoi potenzialmente però mantenendo l'interesse per lo scorrimento però qual è il punto che più dichiari l'interesse per lo scorrimento cioè più dice la graduatoria no io voglio aspettare per vedere se su si libera qualcosa più per di tempo cioè nel senso più non hai la possibilità di effettivamente seguire un corso di medicina che in realtà è parzialmente vero perché chiunque in italia può seguire le lezioni cioè le lezioni universitarie di qualsiasi facoltà sono sono gratuite e sono libere anche anche un non iscritto alla facoltà di medicina di padova ad esempio può seguire le le lezioni di medicina di padova chiaramente non può fare i laboratori non può fare gli esami eccetera però avete capito il senso cioè ha senso aspettare che si liberi un posto in su in graduatoria c'è un posto in nella lista delle preferenze se avete particolari esigenze se che ne so aspettate che si liberi un posto nella città in cui risiedete insomma ci sono casistiche molto particolari io avevo fatto ragionamento molto semplice in qualsiasi università mi mi davano un posto l'avrei preso assolutamente cioè non non avrei fatto nessun tipo di distinzione no aspetto una settimana due settimane eccetera però questi sono ragionamenti assolutamente personali allora se finiscono i posti nella prima scelta e resta un solo posto nella seconda a cui magari si è prenotati improvvisamente si diventa assegnati corretto no se ho capito bene la tua domanda no ma semplicemente tu tu non hai più la possibilità di salire in graduatoria perché c'è non esattamente ma concettualmente sì questo è perché assegnati proprio da definizione è tu fai un punteggio idoneo per essere immatricolato nella tua prima scelta chiaramente se nella tua prima scelta non ci sono più posti e sei matricola e sei prenotato nella tua seconda quel punto non puoi più salire quindi concettualmente sì ma a livello di definizione no giorgia ma ad esempio se io metto come prima scelta padova poi non avrebbe più senso mettere università con un punteggio minimo maggiore come bologna perché sarebbe impossibile entrare giusto allora giorgia il discorso sui punteggi minimi è molto pericoloso questo perché perché storicamente il punteggio minimo ha un senso cioè storicamente si è visto che l'università di bologna di padova di milano hanno un punteggio minimo alto rispetto a foggia rispetto a catanzaro eccetera però fare questo tipo di ragionamenti in tipo in modo assolutistico secondo me è assolutamente sbagliato perché magari padova quest'anno il punteggio minimo sarà più alto di bologna il punteggio minimo vi dico questa cosa molto importante secondo me per afferrare tutto il senso del discorso il punteggio minimo non è imposto da qualcuno cioè il punteggio minimo è la somma di fattori che sono uno la quante persone ambiscono a quelle università e due quante persone che ambiscono a quelle università sono preparate in merito a quel test lì quindi è una somma tra ambizione a quelle università e grado di preparazione secondo quel test lì delle persone che hanno quelle università in graduatoria nella lista delle preferenze quindi è molto difficile fare cioè anzi è impossibile fare delle previsioni di punteggio minimo molto probabilmente storica mecea vedendo come si è evoluta la storia dei punteggi minimi posso dire con una certezza con un grado di certezza molto alto che bologna avrà un punteggio minimo di ingresso più alto rispetto a foggia ad esempio ma lì perché il gap è molto grosso ma nel momento in cui tu mi dici padova bologna quale sarà più alto eccetera è davvero impossibile da dire quindi occhio a fare questi ragionamenti sul punteggio minimo perché è molto difficile eduardo se metto come seconda scelta padova e come terza scelta verona e vengo prenotato per padova ok quindi seconda scelta posso decidere di andare a verona che più bassi in graduatoria assolutamente no questo perché la graduatoria procede solo verso l'alto in nessun caso verso il basso cosa vuol dire se tu vieni prenotato per padova seconda nella tua lista delle preferenze tu hai due scelte prima scelta immatricolarti a padova e puoi farlo assolutamente ma è la seconda scelta è quella di aspettare gli scorrimenti per vedere se si libera un posto su ma giù no cioè nel momento fate questo ragionamento nel momento in cui voi risultate prenotati in una ad esempio nella vostra quinta scelta a quel punto tutte le scelte sotto la quinta non valgono più assolutamente niente cioè proprio come se eliminaste quelle scelte lì quindi anche fate questo ragionamento mentale se padova se vieni prenotato a padova a quel punto la tua lista delle preferenze è solo e sarà solo determinata da prima e seconda scelta non avrai più nessuna possibilità di andare verso il basso perché la graduatoria procede solo verso l'alto in nessun caso verso il basso in nessun caso importante in nessun caso voi potrete scegliere se andare in quell'università o meno perché il processo di assegnazione prenotazione dei posti è automatico quindi in automatico il sistema confronterà tutte le graduatorie delle persone tutte le persone che avranno messo padova nella propria lista delle preferenze e in base al calcolo dei posti totale assegnerà o prenoterà le persone quindi assolutamente verso il basso non potrete mai andare e fate questo esercizio se voi risulterete prenotati nella vostra quinta scelta a quel punto tutte le le scelte dalla sesta in poi non vorranno più niente proprio come se non le doveste guardare perché in nessun caso potrete essere immatricolati potrete essere mandati lì in sostanza ok giorgia quindi spero di aver risposto edoardo io volevo chiedere se metto come seconda anno è quella che ho letto adesso che però è la stessa anno ok ti ho risposto spero di averti risposto edoardo ma si può passare ad esempio dalla quarta alla prima o si deve per forza passare per la terza seconda eccetera questo dipenderà dai dalla tua lista delle preferenze dalla tua dalla tua della tua graduatoria tra virgolette delle scelte chiaramente non c'è un passaggio obbligatorio quarta terza terza seconda seconda prima ma in base a come comporrà la tua lista delle preferenze senza nessun problema e senza nessun problema e se il punteggio lo consentirà importante se il punteggio se i posti occupati e il tuo punteggio lo consentiranno potrai assolutamente c'è l'ottica della graduatoria nazionale è con il tuo punteggio metterti fin da subito nell'università che meriti nella facoltà che meriti nella combo università facoltà che meriti quindi non è che c'è il passaggio obbligatorio terza seconda sì terza seconda eccetera quindi francis spero di averti risposto allora angelo la mia prima scelta è catanzaro abito vicino che ha un punteggio minimo basso non posso capitare in altre quindi allora se metti catanzaro come prima è impossibile in questo caso possiamo dirlo con una certezza abbastanza importante è impossibile che tu risulterai vincitore di un posto a bologna questo perché perché se tu fai un punteggio idoneo a catanzaro a quel punto risulti assegnato a catanzaro e come abbiamo detto prima non hai altra scelta altra scelta che immatricolarti quindi molto semplice però qual è il punto in questo caso che quello quello che dico tantissimo ogni volta che ho una conversazione con con i nostri studenti è la cosa importante che dovete capire è che l'obiettivo non è immatricolarvi nelle università con punteggio minimo più alto ma l'obiettivo è immatricolarvi nelle università che volete in questo caso tu hai catanzaro vicino casa reputi che la la presenza dell'università di catanzaro vicino casa sia una cosa importantissima per te metti catanzaro come prima scelta assolutamente sì non 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 farti abbindolare dalle persone che dicono eh ma ti precludi la possibilità di avere un posto a milano a bologna a padova eccetera no tu vuoi studiare a catanzaro hai valutato che l'università di catanzaro dal punto di vista qualitativo ti piace che è vicino casa ed è una cosa importante che ha una qualità della ricerca scientifica molto importante tutte queste cose qui le hai valutate decidi che catanzaro è la tua prima scelta e decidi che e decidi di essere soddisfatto se risulterai assegnato a catanzaro decidi di essere felice più felice possibile se passi il test a catanzaro quindi l'obiettivo non è passare il test nelle università con un punteggio minimo più alto ma nell'università che volete importantissimo assolutamente allora marica semi immatricola tra l'altro prima ho fatto il tuo nome nell'esempio semi immatricola nella sede in cui sono prenotata non posso partecipare agli scordimenti giusto esatto cioè tu puoi devi scegliere in quel caso o accetti di immatricolarti nella sede in cui si prenotata oppure accetti di aspettare accetti di aspettare gli scorrimenti per un posto più in alto come fanno a liberarsi i posti più in alto molto semplice un primissimo esempio è persona che deve immatricolarsi entro quattro giorni lavorativi perché assegnata perde scade il tempo e a quel punto la persona è automaticamente fuori dalla graduatoria si rende disponibile un posto chi prende quel posto la persona con un punteggio col punteggio più alto con quell'università nella sua lista delle preferenze con tutta una serie di meccanismi che reputano che quel posto è la cosa migliore per lui in base alla sua lista delle preferenze alla lista delle preferenze di tutti gli altri è una roba super complicata di cui non vi deve interessare il meccanismo tecnologico ma sappiate che funziona così allora 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 quindi marica credo di averti risposto ludovica spero di non andare troppo fuori tema ma secondo te si alzeranno i punteggio miei quest'anno ovviamente non possiamo dire niente chiunque si esponga su questa cosa non ha dei dati per farlo se ti interessa però qualche riflessione qualche ragionamento sui punteggi minimi abbiamo fatto abbiamo scritto un articolo sul nostro blog in cui facciamo un po di riflessioni soprattutto comparative con il test dello scorso anno in cui non diamo assolutamente dei numeri perché sarebbe da pazzi non diamo un verdetto si si alza no non si alza rimane uguale ma a partire dalla variazione della composizione del test di quest'anno in base alla preparazione delle persone che notoriamente diciamocelo matematica e fisica la lasciavano perché da quest'anno non si può lasciare ragazzi mi raccomando quel punto abbiamo fatto una serie di ragionamenti che trovi in un articolo sul nostro blog anche molto corposo perché ci teniamo a fare sensibilizzazione su questi temi quindi se ti interessa il tema vatti a riprendere il nostro articolo ma se poi mi matricolo in una città qualsiasi dopo un anno posso richiedere un trasferimento verso un'altra città è molto semplice a dirlo a farlo molto più difficile questo perché perché ogni ateneo ogni università ha delle regole per i trasferimenti diversi dagli altri molto spesso gli atenei pubblicano proprio dei bandi di concorso in cui ci sono dei posti per andare a studiare nell'ateneo a partire da un altro ateneo però solo in determinate situazioni cioè quello che vi consigliamo non è di matricolarvi in un'università e poi cercare in tutti i modi di trovare il trasferimento nell'altra università perché ogni ateneo è diverso dall'altro perché se fate affidamento questo meccanismo 90 per cento rimanete col cerino in mano e perché soprattutto nel momento in cui vi matricolate l'unica cosa a cui dovete pensare è studiare dare il meglio dare il massimo vivere l'esperienza universitaria che non è solo studio assolutamente no ma è di vita e quindi lasciarvi pervadere in sostanza tutto quello che vi succederà dal primo mese in poi quindi non ti consiglio di fare affidamento alla capacità degli altri atenei di prenderti in affidamento tra virgolette con la questione di trasferimento come consigli di scegliere l'ordine delle preferenze ne parleremo sabato alle 21.30 nello specifico sempre qui su youtube in cui faremo proprio degli esempi pratici su su lista delle preferenze sabrina ma se inserisco solo due scelte non entro in queste posso partecipare comunque gli scorrimenti ottima domanda sabrina mi hai aiutato a fare a esprimere un altro concetto le università che inserite nella vostra lista delle preferenze sono le uniche per cui concorrete cioè se voi inserite bologna come prima catanzaro come seconda anzi no bologna come prima firenze come seconda e non fate un punteggio idoneo ad essere immatricolati in nessuna di queste ma risultate come fine posti cioè non ci sono proprio più posti per voi la vostra gradutoria è finita i vostri scorrimenti sono nulli e dovrete in sostanza riprovare il test quindi è importante sapere che se voi inserite due in questo caso mi hai detto due opzioni nella vostra lista delle preferenze concorrete solo per quelle due università quindi toglietevi dalla testa che mettete solo bologna e milano tra in queste due e poi però dite no però ho fatto un punteggio basso quindi vorrei concorrere anche per catanzaro no assolutamente no ed è il motivo per cui quello che vi consiglio di fare è essere quanto più flessibile in questa fase perché perché voi adesso potete dire no io voglio studiare assolutamente solo a milano e a bologna in nessun'altra città però nel momento in cui poi esce il vostro punteggio esce la graduatoria eccetera e pensate cioè vi fate due conti e vedete che effettivamente potevate essere immatricolati a Firenze a Foggia eccetera non è una cosa non è una cosa molto simpatica nel senso che dovete limitare al massimo le occasioni di rimorso perché questa potrebbe essere un'occasione di rimorso tanto vale che voi mettete le primissime scelte quindi le prime due tre quattro nella lista selezionate perfette esattamente quelle che volete però poi dopo mettetene altre perché non sapete mai come potete pensarla dopo al test c'è magari in questo momento dite no Firenze non mi piace piena di turisti fa un sacco caldo eccetera però poi dopo se fareste un punteggio idoneo per Firenze a quel punto la situazione si ribalterebbe cioè in questo momento secondo me non siete pienamente consapevoli di cosa vuol dire rifiutare un posto in un'università quindi siate quanto più flessibili in questa fase poi al massimo lo rifiutate il posto cioè poi al massimo dite no aspetto un posto in alto eccetera però siate più flessibili perché le università che inserite nella vostra lista sono le uniche per le quali concorrete e da qui il discorso di prima che più lunga sarà la vostra lista delle preferenze più sarà la probabilità di avere un posto da qualche parte in sostanza Franci dice quindi per esempio Milano messa tra due sedi con un punteggio minimo più basso rispetto a Milano non blocca per forza la salita nella gradatoria assolutamente no Franci assolutamente no Giorgia ma quindi se io metto le scelte in base a preferenze non a punteggio minimo e quindi ho sedi con un punteggio minimo più alto sotto la mia prima scelta non devo scavalcare il punteggio di quelle per entrare nella prima scelta così come ho detto Franci assolutamente no Ludovic quindi al di là delle prime università preferite le altre conviene metterle in ordine di punteggio allora domanda domanda a cui distinto ti risponderei di sì ma voglio fare una precisazione prima dicevo che è impossibile in questo momento sapere ad esempio tra Bologna e Padova quale avrà il punteggio minimo più basso perché sono delle università che nel tempo hanno avuto un comportamento molto simile in termini di punteggio minimo quindi se voi di se se voi fate dei ragionamenti cioè se voi volete fare dei ragionamenti così fini quindi secondo te Milano Padova Bologna quale sarà la la classifica tra questa università del punteggio minimo non non possiamo essere così fini sappiamo però con abbastanza certezza che ce lo dice proprio la 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 storia diciamo di questi anni che Catanzaro avrà un punteggio più basso di di Bologna Foggia avrà un punteggio più basso di Bologna Campobasso avrà un punteggio più basso di Bologna di Milano di Padova di Udine sappiamo queste cose sappiamo le grosse differenze ma sulle piccole differenze assolutamente non sappiamo niente quindi ci sta a fare il discorso del voglio metterle a parte le le mie primissime che devono essere assolutamente quelle preferite quelle in cui voglio entrare ma poi dopo voglio metterle in ordine di punteggio ci sta come ragionamento il concetto è che non riuscirete mai a predire con certezza quale sarà il punteggio minimo quando si tratterà di comparare delle università molto simili in termini di punteggio che negli anni magari si scambiavano 0.5 0.4 0.7 allora Ginevra io come prima scelta Napoli e abito lì e come seconda terza scelta l'altra università della Campania che hanno punteggi storici bassi ha veramente senso mettere dalla quarta scelta in giù sedi con punteggi alti o magari ha senso costruire la scaletta delle altre sedi dalla quarta in giù in base al punteggio minimo allora non ha senso avere sotto Van Vitelli Bologna perché a quel punto tu hai quel grado di certezza che Bologna avrà sicuramente un punteggio più alto di Van Vitelli però come dicevo prima non puoi avere certezza se tra Bologna e Padova quale avrà il punteggio più alto più basso così come in realtà non hai una grandissima certezza che Van Vitelli abbia un punteggio più alto più basso di Foggia di Catanzaro di della Sapienza di Campobasso che sono università sì con delle differenze però è impossibile che tu azzecchi esattamente l'ordine dei punteggi minimi di tutte queste facoltà quindi quello che ti consiglio è per non cadere in questo errore di comunque metterle tutte comunque metterle tutte ordinarle per i grossi per le grosse differenze di punteggio minimo di punteggio minimo fermo restando che come prime tu devi avere quelle in cui assolutamente vuoi entrare cioè le prime quattro cinque nella lista delle preferenze devono essere effettivamente le vostre preferite in qualsiasi termine nel termine di qualità dell'Ateneo Erasmus pareri degli studenti universitari vicinanza a casa collegamenti col mondo ma devono essere quelle in cui volete entrare e poi dopo potete fare dei ragionamenti sul punteggio minimo storico ma solo quando effettivamente c'è c'è una base c'è c'è molta differenza perché altrimenti non non riuscite ad azzeccare perfettamente e comunque anche se non azzeccate ma inserite nella nella lista tutte le università da qualche parte risultate prenotati perché la gradatoria nazionale proprio vi vi prende e vi sposta dove il vostro punteggio vale di più in sostanza dove a parità di punteggio minimo e di e di posizione all'interno della lista delle preferenze voi risultate più soddisfatti perché ricordate che la gradatoria nazionale prende le vostre scelte come quello che penserete per sempre cioè la la lista delle preferenze è una cosa che la gradatoria nazionale prende per per vera ecco quindi non esiste proprio proprio per questo la gradatoria non è che dice sì ma tu perché vuoi entrare in quella sotto cioè nella tua nella terza scelta se hai un punteggio minimo cioè se è un punteggio che ti consente di matricolarti la seconda tu mi hai detto che la seconda è la seconda la terza la terza quindi per questo non ha senso allora allora vediamo dove ero rimasto possiamo dire che comunque inutile mettere altre preferenze dopo quelle in cui ci si immatricolerebbe davvero solo per rimanere in gradatoria e come ho detto prima in realtà è una cosa molto difficile a corrispondere cioè nel senso che tendiamo a la domanda che devi farti anzi no partiamo da qui tu quanto saresti disposta a rifiutare un posto per medicina odontiatria ma anche veterinari in realtà quanto saresti disposta a rifiutare un posto in questo momento in un in una città particolare ecco un valore mettiamo su 100 sarei disposta 70 in questo momento il valore c'è questa questa tua disposizione propensione a rifiutare quel posto nel momento in cui tu faresti un punteggio che tu tu fai anzi un punteggio che ti permetterebbe di immatricolarti lì è drasticamente inferiore cioè tu in questo momento non riesci effettivamente a capire quanto sei disposta a perdere un posto quindi proprio per questo io vi consiglio di comunque mantenere tutte le porte aperte ma poi alla fine dopo avete la libertà di di perderlo quel posto avete la libertà di dire no aspetto la 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 città sopra quindi quello vi dico cercate di rimanere quanto più flessibili può essere utile considerare il numero di posti per ogni atenevo insieme al punteggio minimo ma in realtà no cioè io non vi consiglio di di considerare nessuna di queste due metriche se non per le università veramente con una differenza importante cioè voi dovete aver presente che campobasso ha un punteggio minimo più basso di bologna e quello è chiaro quello lo sarà anche quest'anno però il numero di posti è una variabile che che da sola non vuol dire niente in sostanza ludovica quindi mettere a metà un uni con un punteggio storico basso blocca la possibilità di entrare in quelle sotto con un punteggio storico minimo più alto non parliamo di storicità facciamo un esempio pratico se io metto come decima scelta l'aquila che storicamente un punteggio minimo medio basso e faccio un punteggio cioè e l'aquila risulta nella mia graduatoria con il mio punteggio la migliore opzione per me cioè l'università più in alto per il mio punteggio a quel punto io vengo prenotato all'aquila e sotto non potrò andare più sotto non si può andare come dicevo prima come la slide dice e quindi questo è il ragionamento che devi fare il tuo il tuo punte c'è la graduatoria prende il numero del tuo punteggio prende la tua lista delle preferenze e dice qual è il posto più in alto in cui posso mettere questa persona cioè qual è l'università più in alto nella sua lista delle preferenze in cui posso metterla e quindi ti prenota o ti assegna lì effettivamente la tua la tua domanda diceva blocca la possibilità di entrare in quelle sotto con un punteggio storico minimo più alto sì però non parliamo di storicità perché tu non sai se l'aquila quest'anno farà un punteggio minimo più alto del molise più alto di 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 catanzaro di messina della sapienza di vambitelli non puoi saperlo e quindi non puoi parlare di di blocco se tu non sai effettivamente quale quale sarà il punteggio minimo di quest'anno e non puoi saperlo come abbiamo detto quindi sicuramente se tu metti come prima scelta l'aquila a quel punto tu sai già che al massimo tu puoi ottenere l'assegnazione all'aquila e sicuramente in questo caso possiamo dire sicuramente non potrai mai immatricolarti a bologna perché bologna ha sicuramente un punteggio minimo più alto dell'aquila e visto che la gradutoria fa il ragionamento del questo è il punteggio minimo questo è il punteggio della persona qual è la sua scelta più in alto in cui posso metterla a quel punto posso dire con certezza che tu non potrai mai immatricolarti a bologna se metti l'aquila come prima scelta se metti molise come prima scelta se metti foggia se metti catanzaro se inserisco solo due scelte e all'inizio non raggiungo il punteggio necessario per entrare in queste rimanco comunque in gradutoria quindi posso aspettare eventuali scorrimenti oppure sono fuori no se assolutamente puoi c'è dipende cosa ti spunterà sicuramente se non risulti prenota se metti solo due scelte bologna e padova e non risulti prenotato in nessuna delle due cioè non risulti né assegnato né prenotato quello che vedrai sarà o in attesa o fine posti fine posti è quando tutte le università in cui nella tua lista le preferenze hanno finito i posti quindi non c'è più posto per te in attesa e in sostanza si sta aspettando che si faccia del posto per per la tua specifica situazione però come dicevo domani tratteremo effettivamente le parole in attesa prenotato assegnato fine posti comunque questo questa è la discussione se vedi fine posti per te è finita se vedi in attesa c'è una una speranza se vedi prenotato chiaramente hai un posto e poi decidere se immatricolarti oppure aspettare gli scorrimenti manuela se in fondo alle scelte ci fosse un'università con un punteggio minimo più alto di quelle della prima scelta non verrebbero nemmeno considerate dal sistema no semplicemente facciamo un esempio tu hai come seconda scelta non facciamo un esempio della prima perché altrimenti ci ci ingarbulliamo tu hai come seconda scelta sassari che ha un punteggio minimo per entrare determinato da tutte quelle variabili lì di 50 tu fai 51 è la tua seconda scelta il la tua prima scelta ha un punteggio minimo di ingresso più alto tipo 60 quindi tu non puoi risultare assegnata nella tua prima scelta perché non hai proprio il punteggio per per entrare ma risulti prenotata nella seconda scelta che a 50 ad esempio se tu risulti prenotata nella tua prima scelta che a 50 e la tua terza scelta a 80 non conta più niente perché come come ti dicevo nel momento in cui tu risulti prenotata in una nella tua seconda scelta ad esempio la tua graduatoria c'è la tua lista anzi si riduce a due cose si riduce alla seconda e si riduce alla prima perché non si può andare verso il basso cioè non vengono considerate proprio come se tu ci mettessi una x e in nessun caso potrà immatricolarti in un'università più in basso rispetto a quelle in cui risulti prenotate molto importante vediamo abiti in una città e non ho soldi o parenti che mi aiuterebbero per trasferirmi quindi in effetti forse nel mio caso non avrebbe senso mettere altre scelte molto triste ma comunque concordo con te sul discorso che comunque un posto si può anche lasciare sì sì chiaramente questo è un caso importante e sicuramente non non sei non sei l'unica ci sono molte altre persone con con questa situazione anche perché insomma vivere da fuori sede non è una cosa che tutti si possono permettere assolutamente comunque ti consiglio di fare di dare un'occhiata ai bandi per le borse di studio che ce ne sono tantissimi ogni ogni regione ha dei programmi di di borsa di studio per il diritto allo studio proprio l'emilia romagna ad esempio è una delle regioni che dà più incentivi agli studenti se non sbaglio le borse di studio dell'emilia romagna per i fuori sede sono sui 5 mila euro annui e ti danno anche la possibilità di avere l'alloggio quindi per tutte le persone che hanno una situazione economica delicata le borse di studio possono davvero salvare salvarvi la vita all'inizio la prendevo anch'io assolutamente poi il primo anno giusto per fare un excursus che credo vi possa interessare il primo anno in genere le borse studio poi hanno delle dinamiche diverse tra le regioni però in genere il primo anno vanno principalmente per reddito quindi se avete un reddito basso a quel punto non conta il voto di maturità praticamente mai e poi dopo ogni anno dovete riconfermarle dando dei danno un certo numero di esami per semplificarla e dovete mantenere la borse di studio perché non è che vi dicono ah perfetto hai un reddito basso ti finanzierò per sempre anche se vai 20 anni fuori corso no dovete mantenere la borse studio comunque a tutti consiglio di fare un giro anche a chi non ha problemi economici perché comunque sono degli aiuti veramente veramente molto molto importanti vi basta scrivere scrivete il nome della regione perché le borse studio sono regionali e non delle singole città quindi scrivete borse di studio emilia romagna borse studio toscana o quello che è e personalmente quello che ho fatto io è stato visto che non sapevo l'università in cui mi sarei matricolato perché non sapevo come come era andato al test avevo preso le prime 5 6 università della mia lista delle preferenze avevo fatto domande di borse di studio in tutte queste cinque in modo che poi ho lasciato solo diciamo la 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 regione in cui poi effettivamente mi sono immatricolato molto importante allora allora giorgia se la mia prima scelta che avrebbe un punteggio minimo più basso non ha più posti e quella sotto con un punteggio minimo più alto ha ancora posti e io scalando riesco a potenere un punteggio per quest'ultima posso entrare anche se la mia prima scelta aveva un punteggio minimo più basso giusto in realtà non non esisterebbe una situazione del genere perché come dice come ti dicevo prima il ragionamento da fare è tu tu non puoi cioè se il punteggio minimo della tua prima scelta è più basso del tuo punteggio tu hai un posto ovviamente quindi a quel punto risulteresti assegnato o prenotato in quella scelta lì ok Ludovic ha senso confermare l'interesse tutto l'anno sperando di entrare anche ad esempio a giugno se poi si entrasse a giugno cosa succederebbe va niente a quel punto tu inizieresti a giugno effettivamente a studiare quindi dovresti riprendere i corsi del primo semestre anche quelli del secondo in realtà e sì cioè in sostanza entreresti con due semestri di ritardo cioè dovresti recuperare i due semestri quindi ad esempio francesco pio per prima o torino poi a seguire bologna milano parma verrei prenotato a parma e potrei attendere per torino quindi è giusto pensare che sia inutile mettere bologna e milano assolutamente no perché se tu risulti prenotato a parma ad esempio a quel punto tu potresti anche risultare dopo visto che scorre solo verso l'alto risultare prenotato a milano e a quel punto a torino potresti anche mai arrivare perché non è detto che tu ci arrivi a torino cioè gli scorrimenti sono possibili ma non è detto che siano probabili non è detto che a torino si liberi si liberano si liberino dei posti è possibile che tutti gli assegnati di torino prendano il posto prendano il posto di torino si immatricolino e a quel punto i posti di torino sono finiti quindi non è detto se risulto prenotata nella mia quarta scelta e aspetto gli scorrimenti ok ma il mio punteggio è troppo basso per la mia terza scelta ho la possibilità di passare direttamente alla seconda o alla prima sì ginevra come ho detto prima non ti blocca il passaggio cioè perché ad ogni scorrimento la graduatoria fa lo stesso ragionamento con questo punteggio qual è l'università più in alto per lei o per lui quindi non hai nessun tipo di non hai nessun tipo di blocco allora 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 quindi breve recap delle regole della graduatoria molto importanti comunque se avete qualsiasi tipo di domanda ce le fate nei dm di instagram vi rispondiamo domani visto che sono le dieci e mezzo comunque prima regola se fate un punteggio che consente di entrare nella vostra prima scelta potete solo immatricolarvi non potete aspettare dei posti sotto perché la graduatoria scorre solo verso l'alto potete solo sperare e non avere la certezza attenzione di avere un posto nelle nelle università più in alto nella vostra lista delle preferenze ma non più in basso la graduatoria è fatta per dare merito alle persone con i punteggi più in alto cioè più alti indipendentemente dell'ordine se io e te facciamo cioè se io faccio un punteggio più alto di te di un punto e c'è un solo posto per bologna e tutti e due dobbiamo avere quel posto facciamo finta che ci sia questa competizione io prenderò quel posto anche se avendo fatto un punteggio più alto anche se nella mia lista delle preferenze quell'università è molto più in basso rispetto alla tua una volta assegnati potrete solo immatricolarvi una volta pronotati potrete scegliere se aspettare gli scorrimenti per un posto più in alto nella vostra lista o immatricolarvi in quell'università come si aspetta gli scorrimenti si dichiara di essere interessata agli scorrimenti se non lo dichiarate siete fuori dalla e non vi immatricolate siete fuori della graduatoria e ultimo graduatoria procede solo verso l'alto in nessun caso verso il basso scegliete bene quindi l'ordine delle preferenze io direi che dopo un'ora possiamo dire di di aver di aver detto di aver detto tutto quindi mi fa piacere che siete rimasti in molti anche fino a quest'orario anche dopo tutto quello che sta succedendo in questo periodo dopo tutta tutte le persone che ci scrivono che dicono a matematica e fisica mi sto disperando noi ci siamo se avete dei problemi se volete fare due chiacchiere scriveteci su instagram stiamo facendo centinaia di conversazioni ci fa molto piacere io vi aspetto domani io vi aspetto domani alle 21 e 30 sul nostro canale youtube per la seconda diretta di questa serie sulla sui termini assegnato prenotato in attesa fine posti vi ricordo che le iscrizioni della scuola online sono in chiusura chiuderanno il 20 luglio alle 23 59 per i piani basic e plus e il 19 luglio per i piani per il piano masterclass potete davvero studiare quando dove e come vorrete anche solo con uno smartphone e l'obiettivo in questo in questo momento deve essere assolutamente avere dei focus di teoria e aumentare i punteggi per risolvere i dubbi di studio velocemente le iscrizioni sono aperte le chiudiamo appunto come vi ho detto il 19 luglio per la masterclass e il 20 luglio per i piani basic e plus potete leggere tutte le informazioni del caso sul nostro sito www.promettest.it slash scuola trattino online davvero ora o mai più ora o mai più per assicurarvi diciamo un mezzo che vi consentirà di accelerare il vostro studio e sappiamo che molti di voi ne hanno bisogno se vorrete noi ci siamo assolutamente quindi 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 fine presentazione ritorno da voi col mio faccione provato dopo un'ora di live ho ancora un po di voce che non mi funziona benissimo comunque spero di aver risolto tutti i dubbi in caso ci fossero dei dubbi risolti che non sono riuscito a leggere non sono riuscito a commentare scriveteci su instagram è stato un piacere ci vediamo domani alle 21 e 30 per la live sui termini assegnato pronotato eccetera come avete visto sono delle live molto pratiche con esempi reali concreti per farvi capire proprio cosa c'è alla base e sabato sempre alle 21 e 30 costruiamo la lista delle preferenze perfette quindi ciao a tutti ragazzi è stato un piacere come sempre parlare fare dei chiacchiere con voi e alla prossima